Viene inaugurato un punto l'Ener Green Power, di che cosa si tratta e qual è l'attività che viene svolta? Abbiamo visto anche consulenza per quanto riguarda il risparmio dell'energia e soprattutto innovazione. Sì, noi ci produriamo fondamentalmente per cercare di indirizzare i nostri clienti a modernare, dato che la maggior parte dei nostri clienti hanno già una situazione impiantistica esistente, quindi cerchiamo di migliorare l'efficienza energetica dei propri impianti indirizzando sulle novità che esistono e su quello che meglio si adatta alla loro situazione. Ener Green Power offre nella propria documentazione, nel proprio materiale, una serie di prodotti che spaziano sia dalle pompe di calore, che agli impianti fotovoltaici, che alle caldaie, l'ultima tecnologia. E proprio perché ogni impianto è fino a se stesso, in questa ottica cerchiamo noi di indirizzare il nostro cliente su quello che più si adatta e più gli fa arrivare all'obiettivo del risparmio. Per quanto riguarda il target della vostra clientela, possono rivolgersi a voi aziende che devono sostituire tetti in Ethernet con impianti fotovoltaici, oppure magari anche i privati che vogliono effettuare questa tipologia di interventi? No, no, noi ci siamo strutturati per cercare di dare una risposta a 360 gradi a tutte le persone che ci si rivolgono. Chiaramente il nostro bacino di utenza principale sono i clienti privati. Enel fondamentalmente nel suo mondo ce n'ha tantissime persone che sono anni che vengono rappresentate ad Enel e che Enel magari ci riconduce per migliorare, per farli risparmiare. Quindi fondamentalmente attingiamo molto di più al privato che all'impresa, anche perché a livello di trazione fiscale l'orientamento del nostro governo è più finalizzato al risparmio per i soggetti privati e quindi per noi c'è molto più lavoro in questo settore. Grazie.